per avviare lo scadenziario è necessario chiudere tutte le eventuali pratiche aperte tramite l'apposita funzione del menu strumenti expert locazioni immobiliare permette di gestire uno scadenziario degli adempimenti relativo a tutte le pratiche memorizzate nel percorso archivio visualizzato nella maschera per ciascuna pratica viene memorizzata la scadenza successiva all'adempimento introdotto e qualora la sezione cronologia adempimento non fosse stata compilata verrà visualizzata la scadenza di registrazione del contratto tale scadenza è anche modificabile manualmente tramite il pulsante input manuale nella sezione dati generali è possibile aprire direttamente la pratica desiderata stampare l'elenco delle scadenze nonché esportare le scadenze nell'agenda del software nova studio tecnico Sì tries